Eccoci qua con il dottor Urbani. Cosa significa partecipare a un festival della filosofia in provincia portando un lavoro che è quello sulla scrittura e quindi calarlo nel tema del festival della filosofia? Penso che sia importante perché la scrittura è un elemento che ci aiuta a capire meglio quello che pensiamo, come lo pensiamo e soprattutto a pensare gli affetti che portiamo. In questo senso poi la scrittura è anche un luogo d'incontro, un luogo quindi d'incontro in questo caso tra psicologia e filosofia, che è la possibilità di conoscere e di conoscerci. Quindi proprio in questo senso credo che sia stato molto importante, credo che sia stato utile e anche, anzi vi ringrazio di avermi dato la possibilità di portarlo qui. Grazie mille.